Che cosa ci resta delle persone che abbiamo amato tanto? Chi è? Il figlio di Tosca. Chi è Tosca? Lei è Tosca. Tosca, Toschina. Enrico. A Trieste vogliono uno spettacolo sulla sciola. Non ti sembra che sia una cosa irreppresentabile? Suo figlio è stato arrestato perché è sospettato. È da tanto che osserviamo casa sua. Siamo musicisti, facendo della musica. Abele, grazie del viaggio. Clara, devo dirti una cosa molto importante. Il Papa è partito, non lo rivedrai mai più. È tornato nell'inferno da dove è venuto. Grazie al cielo, non ci sono più partenze. Adesso che sa come mi chiamo, mi dica cosa vuole da me.